a Mauri con Del Piero tra gli altri in panchina. Il Cagliari risponde con Agazzi tra i pali, poi Perico, Canini, Astori, Agostini, Biondini, Naingolan, Lazzari e Cossu alle spalle di Matri e D'Acqua Fresca. Dirige Brighi, la sintesi a cura di Roberto Soi. Il lancio di Pepe, doppio colpo di testa a Mauri, Iaquinta, ecco il peso di due attaccanti così nella Juve. Punizione di Pepe, dodicesimo, parte il colpo di testa di Agostini. Krasic, il gol del Serbo, il primo gol in bianco-nero, dodicesimo minuto. Destro perfetto da fuori aria, nulla da fare per Agazzi. Festeggiatissimo Milos Krasic. Diciottesimo, Biondini, sulla sinistra per Lazzari a campo, lo attende però distante Rinaudo. Parte il cross, Matri in agguato, difesa bianco-nera ferma ed è il gol dell'1-1, terzo gol in campionato per il 26enne attaccante. Rivediamo, perfetto il lancio di Lazzari da solo, Matri in area di rigore. 1-1, ventiduesimo Grieghera verso Mauri, lo controlla Stori, Agazzi in due tempi. 34esimo, Amauri, lotta in area di rigore. Scarica su Pepe, parte il lunghissimo traversone, indecisione di Agostini. E ancora una volta Krasic, mette a segno il gol del 2-1. È doppietta per il giocatore serbo. Rivediamo come anticipa Agostini. La plomba di Andrea Agnelli, il sorriso di Alessandro Del Piero. Lancio di Chiellini in direzione di Iacuinta. Scivola Stori, questa volta Agazzi è baluardo in sol montabile. Insiste poi ancora Iacuinta e c'è questa uscita di Agazzi. Nella ripresa nessun cambio, all'undicesimo reclama rigore a Mauri. A Stori l'anticipa così, ha visto benissimo Brighi. È calcio d'angolo. Va a calciare Pepe. Palla che carambola in area, tocca Bonucci. Poi doppio colpo, Canini, Nainggolan e Juventus che va sul 3-1. In questo modo. Ancora questa palla sporca, il doppio tocco dei difensori del Cagliari. C'è Nenè per Kossu. Allarga per Matri. Porta di Storari, spalancata, colpo d'esterno e palla fuori. Venticinquesimo. Krasic, Krasic, Krasic in area. Incredibile. Grande serata di Milos Krasic. Il gol del 4-1. Va a togliersi la maglia davanti alla curva bianconera. Verrà naturalmente ammonito da Brighi. Guardate come passa il pallone. Tripletta per Krasic. Poi cambio con le grottaglie per Rinaudo. Una buona partita per Rinaudo. Attacca adesso il Cagliari con Nenè. Opportunità sprecata dal brasiliano. È il momento di Del Piero. 34esimo invocato da tutto lo stadio. Esce Iacuinta. 35esimo. Lazzari. La Juve si rilassa. Tocco d'esterno. Arriva Matri ad anticipare la retroguardia. Bianconera. Gol del 4-2. Doppietta anche per Matri. Quattarete in campionato per il giocatore del Cagliari. Mentre Amauri e questa torsione naturale della Cagliari lo costringono ad uscire in barella. Infortunio da valutare. Insomma, Juve Krasic dipendente. Beh, questa sera possiamo dire e come. Dove.